. . La curiosità di sapere che cosa succederà nella seconda puntata è che Monica riuscirà a recuperare un rapporto con la figlia più grande. Inizierà a ricordare qualcosa degli ultimi otto anni, mentre ero due, i dubbi di Stefano.La protagonista cercherà di recuperare il rapporto con i figli, in particolare con il più piccolo, di cui non ha più ricordi, e con la prima giornata che la accusa e la crede responsabile della morte del figlio. La sua famiglia sembra voltare le spalle. Invece, riscoprirà una cognota, Barbara, meno schiosa nei suoi confronti e comprensione. La dottoressa Liguovi continuerà ad aiutare Monica. Ricordare gli ultimi anni della sua vita per la protagonista non è così. Ma il desiderio di sapere che forse aumenta sempre in più, la donna si convincerà di essere stata l'amante di Monica. È davvero così? Stefano non è pienamente convinto, ma Monica rifiuta di ascoltare l'ipotesi dell'uomo. I suoi figli sono una priorità e convincerà Sara a farsi curare e con il tempo la donna inizierà a sospettare che qualcuno le stia nascondendo qualcosa. Mentre Erobia, quando andrà in onda la seconda puntata? Per sapere cosa succederà nella seconda puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il secondo appuntamento con Mentre Erobia è per giovedì 4 a 3. Vittoria Piccini e Giuseppe Zeno vi aspettano sempre in prima serata e sempre su Rai.